Emergenza coronavirus in attesa della decisione del CTS sul cambio di colore in Basilicata crescono i contagi 142 positivi sugli ultimi 1642 tamponi processati preoccupano i pocolai in atto a Maratea e Montescaglioso l'omicidio di Rotondella il presunto assassino di Cristian Tarantino è stato appena trasferito dall'ospedale di Policoro al carcere di Bari si trova nel reparto sanitario dell'istituto penitenziario scossone nella geografia del parlamentino lucano frana la Lega dopo Baldassarre Viziello passa in Fratelli d'Italia anche il capogruppo Tommaso Coviello nel partito della Meloni anche il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca cresce la povertà in Basilicata dal Rotary di Potenza ancora un gesto di solidarietà consegnati stamane al vescovo Ligorio 150 buoni spesa che andranno alle famiglie sostenute dalla Caritas calcio a 5 il CMB pronto al big match questa sera nella città dei Sassi arriva la corazzata a Pesaro e come ogni venerdì al termine del Tg le previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi l'esperto nei nostri studi Buon pomeriggio ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv l'avete sentito dai titoli c'è l'emergenza coronavirus in primo piano nel nostro Tg e purtroppo cresce ancora il numero dei casi positivi e ci sono altri tre decessi che fanno salire a 350 il numero delle vittime covid in regione intanto secondo le ultime indiscrezioni la Basilicata dovrebbe restare in zona gialla anche per la prossima settimana facciamo il punto con Michelangelo Russo tre decessi ad avigliano milionico e tolve 30 casi a maratea 11 a melfi altri 10 a policoro e pisticci 8 a rio nero 7 a genzano avigliano e monte scaglioso nuovamente oltre 80 i ricoverati con quattro pazienti nelle terapie intensive a poche ore dalla decisione del ministero della salute che dovrebbe fare chiarezza sulla fascia di rischio da assegnare alla nostra regione dopo una settimana in cui i casi sono cresciuti più che altrove del 4% il bollettino divulgato dalla task force alimenta le incertezze dei lucani si tornano a fare oltre 1500 test e i positivi sono 136 in 72 sono guariti 3317 i casi attivi 350 i decessi covid a maratea sugli ultimi 100 test esaminati sono spuntate altre 30 positività si tratta in parte di 10 conferme di tamponi antigenici e di casi che afferiscono comunque a nuclei familiari richiesto dal sindaco stoppelli un rinforzo sul monitoraggio del territorio da parte delle forze dell'ordine per sanzionare coloro che ancora oggi dichiara il primo cittadino si ostinano a tenere comportamenti non rispettosi delle norme anti covid dieci casi sono stati attribuiti a policoro qui proprio come maratea le scuole resteranno chiuse fino a fine mese altri sette casi a montescaglioso tra i positivi c'è anche un dipendente comunale chiusi gli uffici oggi mentre i colleghi e gli amministratori sono tutti negativi e c'è anche una positività di recidiva nel pomeriggio invece si terrà sempre a montescaglioso presso il palazzetto dello sport lo screening previsto per le cinque classi dell'istituto comprensivo palazzo salinari interessate da casi di positività un centinaio i ragazzi che saranno sottoposti a tampone molecolare se non ci saranno positività particolarmente impattanti le attività in presenza riprenderanno lunedì sette casi anche a genzano di lucania impegnata sul fronte vaccini a stigliano nella prima giornata di vaccini dedicata agli over 80 sono 160 le somministrazioni eseguite oggi punti vaccinali attivi all'atronico ripacandida e muro lucano e per quanto riguarda la diffusione delle varianti del covid nelle singole regioni italiane sette dei 109 tamponi risultati positivi ieri in basilicata saranno sequenziati per cercare tracce delle varianti inglese brasiliana e sudafricana sentiamo fabrizio di vito sono settimane delicate sul fronte dell'emergenza coronavirus mentre in tutta italia soprattutto in basilicata si attende il cambio di passo decisivo sul fronte della campagna vaccinale l'attenzione è tutta sui pericoli connessi alla circolazione nel nostro paese delle varianti fin qui accertate quella inglese che abbiamo saputo essere presente in basilicata sin dallo scorso mese di dicembre con quattro casi individuati a corletto per ticara si tratta è bene ricordarlo di persone che hanno da tempo superato l'infezione da covid 19 quella brasiliana e sudafricana ed è per questo che l'istituto superiore di sanità ha voluto avviare dopo quella dei giorni scorsi dedicata unicamente alla variante inglese una seconda indagine rapida finalizzata questa volta al sequenziamento di campioni in tutte le regioni per cercare anche quella brasiliana e sudafricana il tutto con l'obiettivo di stabilire una prima mappatura del grado di diffusione delle varianti con l'italia suddivisa in quattro macro aree ovvero nord est nord ovest centro sud e isole la basilicata fa ovviamente parte di quest'ultima dove saranno complessivamente 273 i campioni da analizzare di questi sette arriveranno proprio dalla nostra regione un numero sicuramente esigua ma è probabile che indagini del genere siano ripetute nel tempo e con una gradualità che risentirà ovviamente dei risultati di questo primo sequenziamento i sette tamponi positivi al covid da sequenziare per la ricerca delle varianti saranno scelti tra i 109 nuovi contagi inseriti nel bollettino di ieri i risultati invece dovranno essere inviati all'istituto superiore di sanità entro il prossimo primo marzo a livello nazionale saranno 1058 i campioni analizzati per avere un quadro più chiaro al netto di quanto già accertato in alcune zone d'italia e soprattutto nelle regioni centrali sulla potenziale diffusione delle varianti e l'emergenza sanitaria a cascata si ripercuote sul mondo del lavoro i dati dell'inps sulla cassa integrazione sono allarmanti ce ne parla mara risola la crisi sanitaria e su effetti soprattutto sul mondo del lavoro sale a 368 punti percentuali in più l'incremento di ore di cassa integrazione erogate in basilicata nello scorso mese rispetto a gennaio 2020 secondo i dati diffusi dall'inps un numero che sommato al calo consistente dei rapporti di lavoro a tempo determinato e precario reso noto dall'osservatorio sul precariato dell'inps confermano la necessità di misure urgenti per rimettere in circolo le persone che hanno perso il lavoro che purtroppo lo perderanno a sostenerlo il segretario regionale della will basilicata vincenzo tortorelli riferendo che solo a gennaio le ore di cig erogate nella nostra regione ammontano a 1,5 milioni di cui 810 mila per la cig ordinaria 440 mila da fondi di solidarietà e 240 mila da cassa integrazione in deroga la will condivide le preoccupazioni di mario draghi per i nostri giovani per l'occupazione delle donne e per le aree del mezzogiorno da qui dice il segretario tortorelli prende ispirazione la nostra idea di regione laboratorio nella quale la tutela dei lavoratori che hanno perso il lavoro e delle famiglie che vivono sulla soglia di povertà e parte centrale la regione conclude tortorelli prende in mano con più determinazione questa situazione ed ascolti di più le forze della rappresentanza sociale ed economica passiamo alla cronaca giudiziaria è stato trasferito dall'ospedale giovanni paolo secondo di policoro al reparto sanitario del carcere di bari antonio favale l'uomo di 44 anni ritenuto responsabile dell'omicidio dell'ingegnere cristian tarantino di 45 suo amico avvenuto la mattina del 23 gennaio scorso a rotondella lo ha reso noto l'avvocato difensore di favale pietro di taranto favale lo ricordiamo fu arrestato lo scorso 8 febbraio dai carabinieri dopo essere uscito dal coma nella probabile colluttazione con tarantino l'uomo rimase gravemente ferito e fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico uscito dal coma lo scorso 11 febbraio durante l'interrogatorio di garanzia favale però non ha risposto alle domande del gip e dunque la morte dell'amico rimane ancora in parte avvolta nel mistero c'è stato un incidente mortale stamane nelle campagne di marconia di pisticci incidente costato la vita ad un uomo di 78 anni del posto finito contro un albero dopo essere stato balzato dal trattore che stava guidando l'uomo si trovava a lavoro in un podere di proprietà del figlio sul posto i vigili del fuoco di matera che hanno recuperato il corpo del settantenne rimasto incastrato tra il mezzo e l'arbusto contro il quale come detto si è schiantato sul luogo dell'incidente anche i carabinieri sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'agricoltore ed ora ci fermiamo per la pubblicità siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale priva di semi lavorati e conservanti il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre rinfrescato quattro volte al giorno ogni quattro ore garantisce morbidezza fragranza profumo e conservabilità del prodotto finale la nostra produzione comprende panettoni colombe pambasotti e biscotti calciano srl e viale regina margherita 40 tricarico a volte basta un gesto per dare inizio ad una storia colori fatta di emozioni scelte fiducia una storia che va costruita passo dopo passo insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro e non importa di quanti capitoli sarà perché basta essere scritta con passione curando ogni dettaglio per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio con pascale arredamenti la tua comodità è in buone mani la itm srl opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale d'estero con la fornitura e pose in opera di progettazioni chiavi in mano installazione assistenza con sopralluoghi gratuiti di capannoni struttura metallica degno lamellare cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale itm srl a san cataldo di bella potenza innovazione tecnologia e lunga esperienza itm srl il gruppo la nostra forza e dopo la pubblicità spazio alla politica regionale ufficiale il passaggio di coviello dalla lega a fratelli d'italia nel partito della meloni anche il sindaco di avigliano mecca ma non mancano accuse e polemiche sentiamo perché da celestino benedetto da giorni se ne parlava e ieri una nuova migrazione dopo quarto e baldassarre il capogruppo della lega tommaso coviello ha deciso di passare al gruppo di fratelli d'italia con lui nella nuova esperienza anche il sindaco e fratello politico di avigliano giuseppe mecca la notizia comunicata direttamente al senatore marti ha innescato subito una girandola di reazioni lo stato maggiore della lega spaventato forse dall'effetto slavina ha subito reagito comunicando la nomina di massimo zullino in questi giorni assente per motivi di salute come vice coordinatore regionale nella piena consapevolezza del delicato momento storico e politico e nella fermezza dei miei valori e del mio percorso ha spiegato coviello ritengo non condivisibile poco opportuno qualsiasi percorso politico in una maggioranza con il centro sinistra e nuovamente con il movimento 5 stelle a sostegno del presidente del consiglio draghi di sentire umano per questo motivo nella fermezza dei miei valori ho deciso di proseguire la mia esperienza con fratelli d'italia condividendo nella posizione rivendicata da giorgia meloni durante le consultazioni proseguirò in basilicata a sostenere il presidente bardi e a perorare le istanze del popolo lucano ma all'entusiasmo in casa fratelli d'italia fanno da contraltare i veleni in casa lega il coordinatore regionale martino le ha mandate a dire era ormai da tempo che tommaso coviello non faceva molto per la lega ma soprattutto per la basilicata per una persona che lascia il partito ma non la poltrona tante altre si stanno avvicinando la faida insomma è esplosa cresce nel potentino il numero di famiglie che si rivolgono alla caritas per chiedere aiuto i dati sono stati forniti oggi nel corso di un incontro con il vescovo ligorio nell'ambito del quale sono stati consegnati 150 buoni spesa oltre ad altre donazioni da parte del rotary club del capologo il servizio di mariolina notar giacomo 1334 famiglie di cui 190 con figli a carico 263 bambini in età scolare e 57 quelli tra 0 e 3 anni sono i numeri ma soprattutto i volti e le storie di chi vive nel disagio del report stilato dalla caritas diocesana di potenza muro lucano e marsico nuovo presentato nel corso di un incontro nel palazzo arcivescovile del capologo di regione l'iniziativa è coincisa con la consegna da parte del club rotary di potenza nella donazione di 150 buoni pasto oltre ad altri contributi la provvedenza non manca mai soprattutto quando c'è il cuore generoso dell'uomo di fronte alle situazioni umane di fragilità e in primo piano ricorre soprattutto la famiglia più che mai oggi da sostenere ma non soltanto con una gratuità renderla protagonista e anche lavorare in rete fare in modo che le stesse famiglie possano tra di loro parlarsi incoraggiarsi è un appello anche alla politica perché non basta un'attenzione che bisogna avere così di promozione umana se non anche leggi adeguate soprattutto in questo momento così importante i dati elaborati dalla caritas fanno riferimento ai soli mesi di novembre e dicembre scorsi un lasso di tempo nel quale si è registrato il maggior numero di richieste d'aiuto con un incremento del 15,10 per cento rispetto ai quattro mesi precedenti la risposta non si è fatta attendere grazie al lavoro delle parrocchie e dei centri d'ascolto della dioce si ammonta infatti a circa 34 mila euro la spesa sostenuta per venire incontro alle svariate richieste d'aiuto dagli alimentari al sostegno a reddito al pagamento delle utenze le cifre sono in aumento esponenziale e se si considera che questo aumento è venuto fuori dalla lettura di un bimestre rispetto al quadrimestre letto precedente per cui nulla lascia presagire un orizzonte luminoso invece la situazione deve non solo preoccuparci ma bisogna che ci faccia interrogare su quali azioni mettere in campo bisogna decisamente andare oltre l'assistenzialismo bisogna guardare ad un orizzonte che possa produrre e benessere altrimenti siamo destinati davvero a sparire basta guardare anche quella percentuale minuscola di madri in attesa beh non è la prima volta che il Rotary è vicino alla carica e tra sé alla diocesi anzi è un impegno che noi portiamo avanti negli anni questa volta siamo qui per consegnare 3.000 euro di buoni spesa che sono messi a disposizione dal governatore del distretto 2120 Giuseppe Seracca Guerrieri a questo aggiungiamo un piccolo contributo di 1.000 euro che viene donato dal club Rotary di Potenza e per le necessità dei poveri della dioce si sarà Monsignor Ligorio a decidere la destinazione e inoltre consegniamo 500 euro a Monsignor Antonio Savone il parroco della cattedrale che li impiegherà abbiamo saputo per ristrutturare gli ambienti nei quali si fa il catechismo sono come ha detto Monsignor Ligorio piccole gocce ma attraverso queste piccole gocce di acqua limpida diceva Maria Teresa che si costruiscono gli oceani. A Potenza si ripropone il problema delle buche sull'asfalto già martoriato dei lavori della fibra automobilisti costretti a slalom continui ma di interventi urgenti per ora neanche l'ombra sentiamo Alessandro Panuccio già i lavori per la fibra avevano messo a dura prova le strade di Potenza il maltempo dei giorni scorsi con la neve e lo spargimento del sale ha fatto il resto e ora la città sembra un percorso di guerra non c'è strada che non costringa automobilisti e rider a pericolose gincane con slalom degni dei migliori sciatori vere e proprie voragini che mettono a dura prova sospensioni e braccetti delle auto per la felicità dei carrozzieri certo fino a qualche ora fa era quasi inutile apporrere a toppi viste le temperature rigide ma si spera che in questi giorni complice rialzo termico e il tempo asciutto l'amministrazione comunale possa porre rimedio come promesso più volte perché la situazione in centro come nelle periferie è al limite emblematico il pantano che puntualmente si crea in viale del basento a betlemme o in via giovanni ventitresimo o i tombini pericolosamente sollevati nei pressi delle buche ma preoccupare dopo le intense precipitazioni degli ultimi mesi sono anche alcuni muretti di contenimento in pietra come quello in via calabria a pochi metri dalle scuole di via lazio basole letteralmente sganciate e appoggiate sul terreno dove le radici dei grossi alberi a monte continuano a farsi strada una situazione che non lascia tranquilli eppure al momento l'area non è stata messa in sicurezza neanche con una transenna o un segnale di pericolo in chiusura il calcio a 5 in serie a sfida dall'elevato coefficiente di difficoltà per il cmb matera che questa sera affronterà la vice capolista ital service pesaro ci presenta la sfida donato valvano archiviata la sfortunata gara di sabato scorso in casa della mantova il cmb matera ospiterà questa sera alle 20 e 30 nella tenso struttura di via dei sanniti una grande del campionato l'ital service pesaro per la ventunesima giornata sarà una gara molto difficile e delicata per i materani contro la squadra seconda in classifica ad un punto dalla capolista acqua e sapone e tra l'altro con l'infermeria ancora affollata wilde ne avrà per due tre settimane dopo essere uscite dal campo al quinto minuto contro il mantova cesaroni ancora fuori per problemi fisici insorti durante la partita con la nazionale infine bisiac non giocherà per squalifica per fortuna garrido ramone well recupereranno insomma quella che scenderà in campo questa sera sarà una squadra priva del suo capo cannoniere e del suo capitano ma che darà sicuramente filo da torcere ai pesaresi perché è proprio nelle difficoltà che i ragazzi di lorenzo nitti sanno sfoderare tutto il loro carattere sappiamo benissimo che il pesaro è una corazzata ha dichiarato alla vigilia del match il secondo portiere lucera sarà una partita difficilissima noi sicuramente scenderemo in campo con umiltà e rispetto ed è tutto per questa edizione vi lascio alle previsioni meteo a cura di gaetano brindisi grazie per la cortese attenzione e buona giornata salve a tutti ben ritrovati sulla nuova tv ria eccoci all'appuntamento in studio per le previsioni del tempo un'alta pressione che sta dando un duro colpo all'inferno all'inverno chiedo scusa perché proprio ci sta una situazione barica di tutto rispetto c'è un anticiclone strutturato tutte le quote sia al suolo sia che sia alle alte quote quindi abbiamo praticamente una struttura molto forte che blocca le perturbazioni provenienti dall'atlantico blocca le invasioni di aria fredda nel cuore dell'inverno febbraio un mese dovrebbe essere il più freddo forse negli ultimi anni è sempre più freddo sta avendo questo diciamo questa ferita indotta proprio dall'alta pressione e l'inverno per il mese di febbraio non dovrebbe tornare più sulla nostra regione vediamo l'immagine del satellite ci mostra una situazione di solita nuvolosità sulla parte occidentale vedete l'europa una depressione ormai permanente tra l'islanda e l'atlantico pilota queste perturbazioni arrivano poi sull'europa trovano sbarrata la strada dall'alta pressione quindi scivolano verso nord est interessa vedete tutta la parte occidentale dell'europa portogallo francia inghilterra e vanno poi sulla scandinave dove le temperature permettono comunque le nevicate di cadere al suolo perché lì siamo a latitudini molto molto elevate per quanto riguarda la parte destra del teleschermo aria fredda molto fredda sulla russia ci sono valori fino a 30 gradi sotto zero però dalla forma più o meno della diciamo l'anticiclone si nota anche dalla mancanza delle nuvole sull'europa centro-meridionale è presente una cupola anticiclonica al suo interno ci sono un po di nuvolosità quella sparsa ma sono soprattutto nubi basse stratificate vediamo infatti l'immagine sull'italia con lo zoom notiamo una velatura vedete che scivola proprio tra molise e puglia nelle prossime ore andrà a interessare anche la parte orientale della basilicata per il resto proprio tra toscana velazio settentrionale toscana e liguria c'è una nuvolosità bassa che dà origine anche a delle locali piovigini insomma nulla di più ci muoviamo queste nuove si muovono in un contesto anticiclonico quindi non possono non possono produrre sicuramente fenomeni significativi vediamo ora le appuntate vediamo ora le la situazione prevista sulla nostra regione grazie alla cartina prodotte da meteosette.it vediamo una situazione come d'altronde abbiamo visto anche dal satellite all'insegna del bel tempo su tutta la nostra regione solo un poco di nuvolosità nel pomeriggio per via di nubi alte stratificate passeranno da nord ovest verso sud est per il resto vedete la parte meridionale soprattutto della regione sarà all'insegna del bel tempo abbiamo avuto valore molto freddi questa notte ma sarà così anche per i prossimi giorni perché il cielo sereno favorisce la perdita del calore durante la notte quindi vedete i valori minimi su tutta la regione piuttosto freddi abbiamo avuto gelate estese questa mattina c'era molta brinate su tutta la regione valori che oscillano tra gli 0 gradi e i 2 gradi da potenza e i 2 gradi a materia per quanto riguarda le massime invece piuttosto miti sicuramente valori superiori alle medie 13 a potenza 13 a materia andiamo a vedere la giornata di domani una giornata che sarà all'insegna sicuramente ancora una volta dell'alta pressione alta pressione che garantirà quindi bel tempo non escluso che qualche nebbia si formi nelle vallate proprio perché l'aria viene schiacciata verso il basso durante le ore più fredde quindi notturne è possibile la formazione di locali foschi e banchi di nebbia ma insomma poi si diraderanno sicuramente nel corso della giornata vedete tanto sole un po' di nuvolosità davvero esigua ma nubi alte qualche velatura che passerà nel cielo nulla di più i valori subiscono un leggero aumento le minime comunque si mantengono vedete su valori molto bassi ancora una volta saranno possibili estese gelate soprattutto nelle vallate dove l'aria fredda si addensa maggiormente i valori un grado a potenza la minima 3 gradi in materia e il rialzo anche le massime che si porteranno su valori intorno ai 15 gradi su tutte e due le città valori che sono sicuramente tipici di fine aprile sicuramente non di fine febbraio vediamo a questo punto anche la domenica una giornata che si presenterà sicuramente ancora una volta col bel tempo per l'alta pressione è in ulteriore rinforza nei prossimi giorni questi quindi possiamo vedere la grafica non cambia pochissimo c'è addirittura maggior sole quindi quelle poche nubi che ci interesseranno tra oggi e domani andranno praticamente scomparendo ci sarà proprio qua e là delle nuvole innocue ma nulla di più il cielo sarà completamente sereno più poco nuvoloso ancora una volta possibili dei locali banchi di neve che poi si vanno a diradare durante il giorno temperature lieve ulteriore aumento minime rimangono comunque basse nelle zone interne montane 2 gradi a potenza 3 gradi a materia così come le massime che comunque rimangono stazionarie su valori decisamente miti per il periodo vedete ci sono anche valori di circa 6-17 gradi nella parte meridionale della regione qualche località potrà toccare anche 18 gradi parliamo sicuramente di valori all'ombra naturalmente al sole si starà davvero bene perché il vento è molto molto debole in questi tre giorni avremo vento prima da leggero maestrale tra oggi e domani mattina poi gireranno i venti a sud est ma davvero deboli quindi questa nuvolosità potrà essere indotta da un debole scirocco solo sulla parte proprio orientale qualche nube infatti la ritroviamo nella giornata di lunedì andiamo a vedere quindi l'ultima cartina prevista sulla nostra regione un po' di nuvolosità sulla parte orientale proprio perché lo scirocco potrebbe portare un po' di umidità dal mare ma nulla di più per il resto sulla basilicata rimangono condizioni assolutamente anticicloniche da piena primavera con valori che saranno in ulteriore aumento quindi tra lunedì martedì potremmo anche toccare i 20 gradi in diverse zone della regione vediamo questa cartina degli spaghetti l'ultima che ci mostra proprio questa tendenza rispetto alla settimana scorsa quando si paventavano data di freddo che dovesse durare sarebbe dovuto durare per più giorni invece vedete come cambiano le cose abbiamo una tendenza alle temperature in aumento per diversi giorni fino praticamente a fine mese non ci dovrebbero essere sorprese anche le precipitazioni il quadro in basso porta zero precipitazioni quindi tranne sorprese proprio dell'ultima ora non dovrebbe piovere fino a fine mese dal 28 proprio tra il 28 e il primo marzo alcuni modelli cominciano a indicare la possibilità di un ribaltone e le temperature scendono gradualmente per marzo c'è molto dubbio ma io credo che per il mese di marzo ci siano almeno un paio di incursioni di aria fredda quindi l'inverno sicuramente non finisce adesso marzo lo dico adesso sarò smentito ma penso che un paio di occasioni invernali le avremo sicuramente per oggi è tutto non mi resta che augurarvi un buon weekend sulla nuova tv e arrivederci a un a a a a a Grazie a tutti.